Percy. Percy tirò un sospiro di sollievo quando le nonnette demoni si avvicinarono per ucciderli. Certo, era terrorizzato. Le cose potevano mettersi male, visto che erano in tre controsvariate decine. Ma almeno combattere era una cosa che comprendeva. Vagare nell'oscurità, aspettando solo che qualcosa o qualcuno li attaccasse. Lo stava facendo impazzire. E poi lui e Annabeth si erano battuti insieme tante volte. E adesso avevano un titano dalla loro parte. Indietro! Percy puntò vortice contro la megera in carta pecorita più vicina, ma quella rispose solo con un verso di scherno. Siamo le Arai, disse la strana voce fuoricampo, come se l'intera foresta parlasse all'unisono. Non puoi distruggerci! Annabeth si accostò alla spalla di Percy. Non toccarle, lo avvisò. Sono gli spiriti delle maledizioni. A Bob non piacciono le maledizioni, commentò il titano. Bobbino pensò bene di infilarsi dentro la tuta di Bob e scomparve. Mica scemo il gattino scheletro. Il titano brandì la scopa e disegnò un ampio arco, costringendo gli spiriti ad arretrare. Ma un attimo dopo rimontarono come la marea. Noi serviamo gli amareggiati e gli sconfitti, dissero le Arai. Serviamo gli uccisi che hanno implorato vendetta con il loro ultimo respiro. Abbiamo molte maledizioni da condividere con voi. Percy sentì l'acqua di fuoco nello stomaco salirgli in gola. Avrebbe voluto che nel tartaro ci fossero bevande migliori, o magari un albero che distribuiva frutta contro l'acidità di stomaco. Grazie per l'offerta, disse. Ma la mamma mi ha detto di non accettare maledizioni dagli sconosciuti. La creatura più vicina attaccò, sguainando gli artigli come scheletrici coltelli a serramanico, e fu colpita da un affondo di vortice. Non appena la creatura si disintegrò, Percy sentì un dolore atroce di vampare ai lati del petto. Barcollò e si portò le mani alla cassa toracica. Quando le allontanò, aveva le dita bagnate di rosso. «Persi, stai sanguinando!» gridò Annabeth. «O santi nomi! Da tutti e due i lati!» Era vero. L'orlo destro e sinistro della maglietta lacerata erano intresi di sangue, come se un giavellotto avesse trafitto il ragazzo. Oppure una freccia. La nausea per poco non lo travolse. Vendetta! Una maledizione scagliata dagli uccisi. Ripensò a uno scontro avuto in Texas due anni prima. Un combattimento contro un mostruoso allevatore che moriva soltanto se tutti e tre i suoi corpi venivano trapassati in contemporanea. «Gerione!» esclamò. «E' così che l'ha ucciso!» Gli spiriti mostrarono le zanne. Altre arai balzarono giù dagli alberi neri, battendo le ali da pipistrello. «Esatto! Stai provando il dolore che ha inflitto a gerione!» Dissero. «Ti sono state lanciate così tante maledizioni, Percy Jackson! Quale sarà a provocare la tua morte? Scegli, o ti faremo a pezzi noi!» In qualche modo Percy riuscì a rimanere in piedi. Smise di sanguinare, pur sempre con la sensazione di avere un palo di loro vento e conficcato nelle costole. Il braccio con cui impugnava la spada era debole e pesante. «Non capisco!» mormorò. La voce di Bob sembrò riecheggiare dal fondo di una lunga galleria. «Per ognuna che uccidi riceverai una maledizione!» «Ma se non le uccidiamo,» fece Annabeth. «Ci figli!» gridavano le arai. «Vuoi essere schiacciato come campe? O disintegrato come i giovani telchini che hai massacrato sotto il monte Santa Elena? Hai seminato così tanta morte e sofferenza, Percy Jackson! Permettici di ricambiare!» Le meggiare alate si avvicinarono minacciose, con il fiato inacidito e gli occhi che sprigionavano odio. Somigliavano alle furie, ma erano perfino peggio, stabili Percy. Almeno le tre furie erano sotto il controllo di Ade. Quelle creature invece erano selvatiche e continuavano a moltiplicarsi. Se incarnavano davvero le maledizioni lanciate in punto di morte da ogni singolo nemico che lui avesse mai ucciso. Beh, allora era in guai seri, si disse. Aveva affrontato un sacco di nemici. Una delle meggiare si scagliò contro Annabeth. Lei la schivò distinto, calò il pezzo di roccia che aveva in mano sulla testa del mostro e la disintegrò. Non che avesse scelta, Percy avrebbe fatto lo stesso. Ma subito Annabeth lasciò cadere la pietra, urlando «Non ci vedo più!». Si toccò la faccia guardandosi intorno impazzita. Aveva le pupille sbiancate. Percy si precipitò da lei, mentre le Arai ridacchiavano stridule. «Olifemo ti ha maledetta quando lo ha ingannato con la tua invisibilità nel mare dei mostri!» «Hai detto che ti chiamavi nessuno! Lui non poteva vederti!» «Adesso tu non potrai vedere i tuoi aggressori!» «Ci sono io!» la rassicurò Percy. Le mise un braccio intorno alla vita, ma mentre le Arai avanzavano, si domandò come avrebbe potuto proteggere entrambi. Una decina di mostri balzarono da ogni direzione, ma Bob gridò «Strike!». La scopa fischiò sopra la testa di Percy. Le Arai caddero come birilli in una pista da bullying. La prima linea era stata spazzata via. Altre megere avanzarono a frotte. Bob ne colpì una sulla testa e ne infilzò un'altra, polverizzandole. Le loro compagni arretrarono. Percy trattenne il fiato, in attesa che l'amico titano venisse colto da una terribile maledizione. Ma Bob sembrava stare bene. Era la guardia del corpo ideale. Un colosso d'argento che teneva a bada la morte, con l'arnese domestico più spaventoso del mondo. «Bob tutto a posto?» domandò Percy. «Niente maledizioni!» «Niente maledizioni per Bob!» confermò il titano. Le Arai ringhierono e volteggiarono, tenendo d'occhio la scopa. «Il titano è già maledetto! Perché dovremmo torturarlo ancora?» «Tu, Percy Jackson, gli hai già distrutto la memoria!» La punta della lancia di Bob si abbassò. «Bob, non starle ad ascoltare!» disse Annabeth. «Sono cattive!» Il tempo rallentò. Percy si chiese se lo spirito di Crono non fosse nelle vicinanze, turbinando nell'oscurità e godendosi quel momento, al punto da volerlo prolungare per l'eternità. Si sentì come si era sentito a dodici anni, mentre combatteva contro Ares sulla spiaggia di Los Angeles, quando aveva avvertito per la prima volta l'ombra del Signore dei Titani. Bob si girò. I suoi capelli scompigliati sembravano un'aureola esplosa. «La mia memoria! Sei stato tu?» «Maledicilo, titano!» lo incitarono le Arai con scintillanti occhi rossi. «Unisciti alla nostra schiera!» Percy sentì il cuore battere forte contro il petto. «Bob è una lunga storia! Non volevo che tu fossi mio nemico! Ho cercato di diventare tuo amico!» «Rubandoti la vita!» commentarono le Arai. «Lasciandoti nel palazzo di Ade a pulire i pavimenti!» Annabeth afferrò la mano di Percy. «Da che parte?» sussurrò. «Se dobbiamo fuggire!» Percy capì al volo. Se Bob non li avesse protetti, la loro unica possibilità era fuggire. Peccato che fosse una possibilità inesistente. «Bob, ascolta! Le Arai vogliono farti arrabbiare!» tentò di nuovo il figlio di Poseidone. «Nascono e si moltiplicano dai brutti pensieri! Non dargli quello che vogliono! Noi siamo tuoi amici!» Ma si sentì un bugiardo perfino mentre lo diceva. Aveva lasciato Bob negli inferi e da allora non ci aveva più pensato. «Cosa li rendeva, amici? Il fatto che adesso loro avessero bisogno di lui?» Percy non aveva mai sopportato che gli dèi lo sfruttassero per i propri affari. E adesso lui trattava Bob allo stesso modo. «Hai visto che faccia ha?» ringhiarono le Arai. «Il ragazzo non riesce a convincere neppure se stesso!» «Ti è mai venuto a trovare dopo che ti ha rubato la memoria?» «No!» murmurò Bob. Gli tremò il labbro inferiore. «L'altro sì, però!» I riflessi mentari di Percy erano lenti. «L'altro?» «Niko!» Bob lo guardò accigliato con un'espressione ferita. «Niko è venuto a trovarmi. Mi ha raccontato di Percy. Ha detto che Percy era buono. Ha detto che era un amico. È per questo che Bob ha aiutato Percy. Ma...» La voce del semidio si spezzò come se qualcuno l'avesse colpita con una lama di bronzo celeste. Non si era mai sentito così meschino, ignobile e indegno di avere un amico. Le Arai attaccarono. E stavolta Bob non le fermò.